Chiusura a sedi postali, l'assessore Bussalino risponde ai consiglieri Conticelli e Unia. Un minuto di silenzio in consiglio per la morte di Matilde Lorenzi. Cal Barisone, eletto nuovo presidente. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati le criticità derivanti dalla chiusura di alcune sedi postali al centro delle interrogazioni che i consiglieri Unia e Conticelli hanno rivolto all'assessore Bussalino nell'ambito dei question time. E' intenzione dell'assessorato chiedere alle poste italiane un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti per approfondire le motivazioni della chiusura di alcune sedi nel territorio torinese. Così l'assessore Enrico Bussalino rispondendo alle interrogazioni di Nadia Conticelli, Partito Democratico e di Alberto Unia, Movimento 5 Stelle, sul piano di razionalizzazione annunciato dalle poste italiane che solo a Torino prevede la chiusura di cinque uffici postali. L'assessore pur sottolineando che la regione non può intervenire direttamente sulle decisioni intraprese perché non si tratta di materia di competenza regionale annuncia l'avvio di un dialogo e per questo chiederemo un tavolo di confronto al quale possano partecipare anche gli enti locali coinvolti con l'obiettivo di conoscere le motivazioni alla base di questa scelta che va a privare i cittadini torinesi di un servizio importante in particolare per gli anziani. Un minuto di silenzio nell'aula del Consiglio regionale in ricordo di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro morta a seguito di una caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige. Piemontese faceva parte del gruppo sportivo dell'esercito. Oggi siamo tutti addolorati, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Davide Nicco. Esprimiamo la più grande vicinanza alla famiglia per questa tristissima tragedia. Tutta la comunità piemontese con grande sgomento piange per la morte di questa campionessa della Nazionale Juniores femminile di grande prospettiva, una vera promessa dello sci italiano. Un'atroce fatalità e un tragico destino mentre praticava lo sport che tanto amava e a cui ha dedicato tempo e sacrifici. Autonomia differenziata ma anche attenzione e vicinanza ai territori. Questi alcuni degli obiettivi su cui si concentreranno i lavori della settima commissione. Sentiamo il Presidente Andrea Cerutti e i due Vicepresidenti Mauro Calderoni ed Elena Rocchi. Questa commissione si prefigge tanti obiettivi, l'obiettivo importante è lavorare con tutta la giunta insieme. L'autonomia è sicuramente un punto importante che la commissione settima dovrà affrontare. Il lavoro della commissione non deve essere solamente un lavoro di controllo ma deve essere anche di proposte per dare ai nostri assessori l'opportunità di avere degli strumenti per trattare col Governo nazionale. Come opposizioni cercheremo di vigilare su tutto quello che è la partita legata all'autonomia differenziata e poi la riorganizzazione del sistema di enti locali soprattutto nelle terre alte perché le unioni montane hanno dimostrato di essere degli strumenti di governance non efficaci. Lo scopo è anche quello di cercare di far sentire di più la vicinanza della regione a chi fa attività sui territori, quindi la nostra vicinanza ai sindaci, agli enti territoriali, ai consigli comunali. Mauro Barisone è stato eletto all'unanimità nuovo Presidente del CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha un nuovo Presidente, Mauro Barisone, consigliere comunale di Vinovo. Barisone è stato eletto nella seduta di insediamento tenutasi in sala Viglione a Palazzo Lascaris, presieduta da Fabio Carosso, consigliere segretario dell'ufficio di Presidenza, alla presenza dell'assessore agli enti locali Enrico Bussalino. È una grande soddisfazione, da anni aspettavo questo riconoscimento e i miei colleghi me l'hanno voluto dare. Abbiamo molti argomenti e molta popolazione da seguire perché i problemi sono tanti. Vice Presidenti CAL saranno Matteo Chiantore, Sindaco di Ivrea e Maurizio Giacoletto, Sindaco di Rivara e Presidente dell'Unione Montana Alto Canavese. Un nuovo CAL con tanti punti all'ordine del giorno, un momento molto importante dove tutte le autonomie locali contribuiscono, come mai fanno da tanto tempo, al funzionamento della nostra regione. Eletti anche i sette segretari che compongono l'ufficio di Presidenza, Franca Biglio, Paolo Amorisco, Davide Gilardino, Elena Piastra, Pacifico Banchieri, Luca Robaldo e Alessandro Lana. Il CAL è importantissimo perché dà rappresentatività a tutti i territori della regione Piemonte, i comuni grandi, i comuni piccoli e anche tutte le associazioni. Quindi un organismo veramente importante che serve a collaborare col Consiglio regionale, con la Giunta, per fare il bene del nostro territorio. Una speranza concreta per tutti i malati oncologici. Il Presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha visitato l'Istituto di Candiolo ad accoglierlo la Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli e il Direttore Generale Gianmarco Sala. Per la regione Piemonte avere un istituto come quello di Candiolo in questo ambito è assolutamente un'eccellenza, è assolutamente un orgoglio. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno cura di questa bellissima realtà e hanno anche l'umanità necessaria per gestirlo al meglio, tenendo conto che qua non si fa solo cura medica ma si fa anche assistenza delle persone che sono fragili, che sono in difficoltà. Il segreto di Candiolo è, credo, il fatto di avere passione. La passione è una parola che a me piace molto perché con la passione si riesce ad arrivare in posti dove uno non è mai riuscito ad arrivare. I ricercatori con i clinici insieme a noi hanno passione per questa istituzione. Nell'ultimo anno noi abbiamo erogato oltre 1.300.000 prestazioni ambulatoriali, abbiamo operato 7.000 persone e per quanto riguarda le attività di ricerca i nostri 291 ricercatori impegnati in 40 laboratori. Tutto questo è reso possibile grazie alla generosità dei nostri sostenitori. Promuovere il benessere grazie agli animali. Questo è il focus di un convegno che si è tenuto presso la sede dell'Ordine dei Medici di Torino. Favorire il benessere globale della persona partendo dalla consapevolezza che un corretto rapporto con la natura e gli animali può svolgere un ruolo determinante. Questo è l'obiettivo del convegno che si è tenuto presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino, mirato a promuovere gli interventi assistiti con animali in tutte le professioni sanitarie. L'evento è stato organizzato dall'Ordine dei Biologi di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, presieduto da Alessandro Miceli ed è stato patrocinato dal Garante per i diritti degli animali della regione Piemonte. È un convegno che fa un po' il punto della situazione sul rapporto tra uomini e animali all'interno del concetto di sanità globale, sanità dell'ambiente, qualità di vita, rapporto con gli animali e ovviamente qualità di vita per le persone, quindi miglioramento degli stili di vita e quant'altro può servire a rendere il nostro camminare sulla terra più piacevole, più leggero. Un evento che auspichiamo possa avere un ampio riscontro positivo da parte dei partecipanti, sia in termini educativi sia in termini di innovazione, come rientra nei nostri intenti. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!